Qui siamo in studio con la senatrice Silvana Amati, parliamo di donne e la loro tutela sul lavoro. Senatrice, ci sono dei dati, c'è un rapporto e c'è un disegno di legge che lei ha presentato. Sì, noi abbiamo anche ieri in Senato fatto un incontro molto significativo con il Presidente del Senato e soprattutto con l'ANMIL, che è l'associazione che appunto dal 43 parla dell'invalidità nei luoghi di lavoro. Certamente è un'invalidità che di norma è assolutamente prevalentemente maschile, ma che purtroppo riguarda anche le donne. Di 690 mila invalidi del lavoro, 96 mila sono donne, quindi una percentuale minima, ma perché sono di meno le donne che lavorano. Anche in questi anni c'è stata una riduzione di donne invalide, ma questo fatto non riguarda il dato che si sono ridotte le invalidità e che purtroppo si sono ridotte le donne che vanno al lavoro. Quindi noi ci siamo occupati nell'ultimo periodo, devo dire che questo progetto di legge l'avevo già presentato nella passata legislatura e aveva raccolto il sostegno e la firma di colleghi di tutte le componenti politiche. Anche in questa legislatura l'ho ripresentato con più firme e ho cercato di dare la voce alle richieste dell'ANMIL, appunto dell'associazione che si occupa di queste questioni. Praticamente noi vogliamo mettere insieme due problematiche. Le problematiche che riguardano appunto un aumento di risorse e di attenzione alle questioni che riguardano gli invalidi in generale, viste sul fronte femminile, e le questioni che riguardano le casalinghe. Voi sapete che dal 99 c'è una legge che riguarda l'assicurazione per le casalinghe. Sappiamo anche che le donne che lavorano svolgono un doppio lavoro, un lavoro da lavoratrici e un lavoro quando tornano a casa da casalinghe. Quindi mettere insieme queste due forme, anche assicurative, può voler dire coprire due fronti di lavoro. Tra l'altro moltissimi degli incidenti delle donne che appunto affrontano il lavoro sono incidenti in itinere, quindi quelle che si compiono andando a lavorare. Un problema che riguarda anche la particolare fretta, disattenzione, necessità di correre da un punto all'altro. Sappiamo anche dell'attenzione, dello stress che le donne in particolare subiscono, proprio perché svolgono tutte queste funzioni. E quindi per questo un progetto di legge. Quali sono le professioni più pericolose per le donne? Allora, le professioni più pericolose restano quelle agricole, nonostante che l'Italia ormai sia un paese non più prevalentemente agricolo. Poi quelle sanitarie, comunque, che rimangono stranamente e particolarmente pericolose, quindi infermieristiche affini. Poi quelle commerciali e anche quelle delle badanti. Anche se in questo caso si tratta in particolare di donne straniere. Quindi diciamo che una gamma abbastanza vasta e una gamma che vede un'invalidità più alta nelle donne che sono di età maggiore. Quindi le donne più giovani sono meno colpite da un'invalidità che non sia quella in itinere. Devo dire che un fatto positivo, secondo me, se riusciremo a dar seguito a questo atto, nel convegno che abbiamo fatto ieri al Senato, una cosa positiva l'abbiamo fatta. Avevamo, per esempio, il Presidente della Commissione Lavoro, il Presidente Sacconi, perché vorremmo non solo parlare, siamo vicini a marzo, non vogliamo celebrare le donne, vogliamo fare atti concreti. Atti concreti vuol dire trasformare i disegni di leggi in leggi e quindi dare cose concrete alle donne. E allora speriamo che da queste proposte seguano atti concreti. Allora, un atto concreto che avevamo fatto era, anche in questo caso, con la Commissione Diritti Umani, cercare di sollecitare, in questo caso, il Ministero della Salute a far sì che ci fosse un aggiornamento del prontuario sulle nuove protesi. È dal 1995-1996 che non c'è un aggiornamento delle protesi. Praticamente anche già dei ricorsi al TAR sono stati fatti in alcune parti del paese, in Sicilia, in particolare, mi pare, in Campania, per cui vengono sovvenzionate protesi che non sono più quelle di una volta. Credo che per le donne invalide, mancanti soprattutto di arti, avere protesi anziane non più corrispondenti alle nuove tecnologie, oppure non più finanziate, così è un problema non secondario. Grazie, grazie, buon lavoro alla senatrice Silvana Amati.